Continua a spingere, sei a soli tre decimi dalla pole position. A spingere, sei a soli tre decimi dalla pole position. A spingere, sei a soli tre decimi dalla pole position. A spingere, sei a soli tre decimi dalla pole position. A spingere, sei a soli tre decimi dalla pole position. Ottimo sorpasso, ora spingi. Ottimo sorpasso, ora spingere, sei a soli tre decimi dalla pole position. Grazie a tutti. 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 Il pilota che ti precede sta provando a distalziarsi. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Sei a meno di un secondo di distanza dal pilota che ti precede. Prova a usare il DRS per superarlo. C'è un problema con il CARS, problema con il CARS. La vettura di fronte ti sta rallentare. Superala. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai effettuato. Hai effettuato il giro più veloce. Complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.